Buongiorno a tutti. Abbiamo già ricevuto la comunicazione sulla preghiera nella quale ci uniremo il giorno 22 come presenza delle religiose nel mondo intero e siccome arriviamo a tutte le parti più remote vorremmo che questo giorno sia proprio un abbraccio di preghiera al mondo anche se sappiamo che già rispondiamo con questo. È il tempo di rafforzarci nella comunione, nell'impegno di solidarietà, di responsabilità, di concreti gesti di comunione quali per esempio la preghiera ma anche di concreti gesti di vicinanza attraverso la solidarietà, attraverso l'incontro, attraverso disponibilità ad accudire a quelli che più ne hanno bisogno. Allora vi invito e vi invitiamo con tutta la presidenza della UISG a unirvi in questo momento speciale che vive il mondo insieme a tante altre iniziative che appoggiamo e stiamo lì. Si unisce a noi anche la unione dei superiori generali e anche loro saranno presenti con noi in spirito con tutto il mondo che prega. Grazie.